Oggi nella Galleria d'Arte Moderna Armando Pizzinato al Parco Galvani si è tenuto il convegno di studio una valigia di colori dedicato all'integrazione scolastica dei bimbi migranti. Strategie di interventi su questa tematica sono state illustrati da docenti universitari e da diversi esperti del settore. A seguire i lavori l'assessore alle politiche sociali Vincenzo Romor. Il progetto Pasca è la prima accoglienza a scuola degli stranieri che ha avuto inizio dieci anni fa. L'entusiasmo che scaturisce dai relatori della sala e da tutti quelli che hanno portato a termine questo progetto ci dà una grande fiducia per cercare di rimpostare il progetto verso una continuazione. La rete di formazione che ha garantito il successo di questo progetto è fondamentale. Ci proponiamo che continui questa rete con l'intervento della scuola, del comune, della sanità, delle associazioni di volontariato e di tutti questi attori che intervengono proprio per dare origine e modificare costantemente l'obiettivo del progetto Pasca variando le situazioni. Soddisfazione per l'attuazione del progetto Pasca, prima accoglienza stranieri a scuola, nelle parole dell'assessore alle politiche europee Flavia Rubino. Questo dimostra che si può progettare, che si possono raggiungere i fondi europei, che bisogna avere coraggio di farlo e soprattutto che bisogna valorizzare i progetti che già sono stati fatti e che devono essere semplicemente adattati a quanto richiesto dall'Unione Europea. È un primo passo. Questo tipo di progetto è un progetto che avrà una continuità anche dopo la fine di questa premiazione e di questo importante riconoscimento e diventerà un esempio di buone pratiche da espostare non soltanto nella nostra regione ma anche nel resto del contesto nazionale.